Arma a scarica! Mico a terra! Uccisione confermata! B sotto controllo! Perdiamo Charlie! Ricarico! O a B in arrivo! Abbiamo un passo in bandaggio! Perdiamo C! Avanti! Vedo il nemico! Confermato! Il nemico ha preso Charlie! Minaccia neutralizzata! Prendiamo C! Perdiamo Alpha! Confermato! L'ho steso! Ustile Hellstorm pronto! Colpo fulminante in attesa di coordinate! Viking 1, 2, 1! Coordinate colpo fulminante in attesa di coordinate! Ricarico!